Il sostituto procuratore Stefano Giovagnoni ha incontrato vigili del fuoco, carabinieri e ASL per fare il punto della situazione, per quanto concerne l'inchiesta, sul rogo della Italpannelli di Ancarano. Al momento non sono emerse grandissime novità e nell'inchiesta non ci sono indagati, mentre la causa scatenante delle fiamme sembra essere quella emersa nei giorni scorsi, ossia i lavori di saldatura di una rete del gas sul tetto dello stabile andato a fuoco. In coincidenza con il vertice in procura, si è tenuta una riunione operativa negli uffici della prefettura, riunione chiesta dalle parti sociali, FIOM CGL, WinWill, da Confindustria e dalla direzione aziendale della Italpannelli, tavolo istituzionale utile per verificare lo stato della situazione per una ripresa dell'attività produttiva. Alla riunione, oltre al prefetto Walter Crudo, erano presenti anche il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, i rappresentanti della società Italpannelli SRL, della direzione provinciale di Confindustria e delle organizzazioni sindacali di Ascoli Piceno, accompagnati dalle RSU dei lavoratori. Alle rassicurazioni degli amministratori della società, decisi a tutelare i livelli occupazionali dell'azienda, anche facendo ricorso ad un contratto di solidarietà precedentemente stipulato con i lavoratori, si sono unite quelle delle istituzioni che supporteranno, per quanto reso possibile dagli sviluppi della vicenda e delle indagini, i lavoratori e l'azienda per una ripresa dell'attività produttiva. La proprietà ha garantito il massimo impegno per tornare alla situazione preincidente, ribadendo la volontà di totale salvaguardia della manodopera attuale. Intanto, il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, fa sapere che in seguito ad informazioni acquisite in maniera non ufficiale, sembrano essere negative, dunque positive per la salute, le analisi effettuate sui prelievi fatti sui prodotti della terra nel territorio di Ancarano. Restano stazionari e le condizioni del Vigile del Fuoco, il 47enne in servizio al dissaccamento di Nereto, rimasto ferito durante l'intervento di martedì scorso alla Italpannelli.